Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo la prima maglia del Sao Paolo per la stagione 2023, quindi la nuova, in edizione FAN. Grazie per la visione! A me questa maglia e questi colori piacciono. Nella mia classifica questa prende 4 stelle, l'avevo già vista l'anno scorso e ho voluto riprenderla anche nella nuova stagione. Il costo lo vedete qui sopra? Che aggiungere, molto basso, molto conveniente per una maglia fatta sicuramente molto bene e che arriva con ottimi tempi di spedizione. Come al solito vi ricordo che in descrizione, qui sotto, trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché troverete tantissime sorprese che vi attendono. Ora, prima di lasciarvi alla parte finale, mi raccomando, lasciate un grande like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che è l'unico modo che avete per farci crescere ed avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN.